ciao a tutti io sono il dylan dogofilo oggi recensione della prima storia del primo nuovo dylan dog maxi il futuro alle spalle teste di mignacco e disegni di roy mignacco che ha fatto davvero un capolavoro adesso andremo ad analizzarli in ogni singolo dettaglio disegni di corrado roy che hanno subito un'evoluzione finalmente dylan ha un espressione fatta e finita corrado roy tendeva ad oscurare un po la faccia di dylan a renderla un po diciamo con pochi tratti quindi un po misterioso invece qui si vede bene si vedono lo sguardo c'è sempre stato però si vedono bene i lineamenti del volto cosa che prima mancava le ombreggiature sono sempre al top è uno dei miei disegnatori preferiti perché riesce a ricreare proprio le situazioni di angoscia e soprattutto quelle tenebrose con sfondi neri e accenti di luce davvero fantastici la storia di che cosa parla è semplicemente scusate mignacco ci immerge nella vita di dylan dog prende il dylan dog dal 1986 fino a oggi e ne fa un riassunto in unica storia davvero un capolavoro non so se ci sia lo zampino di roberto orecchioni ma se mignacco ha fatto tutto questo da solo è un genio ci vuole davvero tantissima organizzazione tantissima determinazione soprattutto non bisogna andare nel pallone per creare una storia del genere il futuro alle spalle ci dice già tutto perché il passato alle spalle sarebbe la frase più logica quindi qui viene rappresentato il passato che è presente qui nel maxi dylan dog ma che non ci sarà più nel nuovo dylan dog della serie mensile invece mignacco ci scrive il futuro alle spalle perché per chi come me che non gradisce il nuovo dylan dog qui troviamo il futuro di dylan dog messo da parte quindi il ritorno all'origine che troviamo qui il classico dylan dog che a me piace tanto quindi ci dice che in questo maxi ci sarà il vecchio dylan dog il classico qui bloc non è ancora in pensione qui un richiamo al numero uno di dylan dog questa qui è la casa la casa dove avveniva l'omicidio dello zombie invece qui è diventato un pub tanti tantissimi richiami da parte di mignacco roi riesce a ricreare le atmosfere riesce a ricreare quello che pensa mignacco in maniera a dir poco eccelsa qui bloc che si dimostra attenzione questa storia qui la storia o meglio la recensione durerà un pochino perché ogni singola vignetta ogni singola frase nasconde un una metafora nasconde un qualcosa quindi aspettatevi una recensione abbastanza lunga qui bloc vedete che cada pezzi diventa uno zombie simbolo che nel nuovo ciclo sta morendo nel nuovo ciclo sta diventando pensionato invece qui rimane ancora ancorato a quello che era prima qui il lettore che affronta bloc che affronta questo cambiamento viene un attimino sopraffatto ma riesce alla fine a reagire andando avanti troviamo sempre un richiamo al numero uno dove bloc diventa purtroppo uno zombie qui troviamo dylan che non sa se dare un calcio al passato oppure tenersi nel presente perché uccidere bloc significa andare avanti intraprendere il nuovo ciclo o rimanere così dove siamo alla fine si scopre che è tutto un sogno quindi non è ancora un'incertezza da parte sia del lettore sia da chi scrive questa storia che non sa ancora quale risvolti porterà il nuovo ciclo della serie regolare la tosse non demorde qui andando avanti dylan va da madame trelcoschi o meglio madame trelcoschi è morta come dovrebbe essere sulla serie regolare come lo sarà fra un po nei prossimi albi qui dylan va da questi due amici che erano due fedeli amici di madame e uno di questi due presenti dice se la sente dylan la capiremo se volesse tirarsi indietro quindi se la sente dylan di cambiare se volesse tornare indietro quindi tornare ad essere il dylan dog di sempre la capiremo quindi un accenno al fatto che il lettore è molto molto impreparato per questo cambiamento che sta subendo il mondo dell'indarratore dell'incubo non si sforzi giovanotto sappiamo quanto era legato a puntini 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 l'amica nel caso della storia si riferisce a madame trelcoschi quindi dylan che sta tentando di evocare lo spirito lo spirito di madame e la signora che gli dice sappiamo quanto era legato a lei e invece c'è anche il secondo punto di vista che sarebbe sappiamo quanto era legato al vecchio dylan dog e qui c'è il cambiamento e dylan dice dylan che rappresenta sempre più o meno il lettore in questa storia che dice no non sono pronto quindi vuole rimanere così com'è qui avviene la seduta madame trelcoschi viene fuori e gli dicono maria perché si chiama maria trelcoschi sei tu sei tornata e lei dice no voi mi avete chiamato qui ma avete commesso un grave errore io sono viva e voi siete morti quindi qui c'è lo zampino di rettione che dà proprio il calcio al passato che dice io sono viva quindi il nuovo dylan dog è vivo e voi siete morti il vecchio dylan dog è destinato a lasciare un attimo da parte le cose diciamo è destinato a mettersi da parte per dare spazio al nuovo dylan che uscirà qui madame trelcoschi ritorna perché in realtà non è morta ma è tutto un sogno questi sogni che fa dylan quindi di bloc che diventa zombie che madame trelcoschi è morta è lo sguardo al futuro che dà la bonella a questo personaggio mentre qui in questa storia poi si rivive anche l'attuale presente andando avanti nel corso della storia rincontriamo anche lord hg wells famosissimo personaggio che è apparso nei primi numeri di dylan dog il ricchissimo signore ricchissimo milord che è anche appassionato riesce a costruire davvero un sacco di cose e ha aiutato dylan a risolvere molti casi in queste vignette troviamo dei richiami fortissimi a agli episodi che hanno più influenzato il mondo di dylan dog questo drago infatti è apparso in una copertina adesso non ricordo più il nome comunque un albo che fece davvero molto successo così come maledetta tosse così come mater morbi che vediamo ricreata qui con questo profilo che un po si nasconde un po si vergogna ma si mostra mater morbi che allo stesso tempo in persona anche anna never perché lo sguardo è lo stesso anna never era stata disegnata sempre da corrado roi nel 1980 e qualcosa penso a fine anni 80 uno dei primi albi era il numero 4 quindi si nell'86 87 con i capelli però neri quindi due personaggi in uno mater morbi e anna never andando avanti troviamo dylan che ha un cellulare quindi qui è sempre più o meno un sogno ma questa volta è realtà adesso mi spiego meglio questi questo è il lettore che vaga attraverso a questo mondo che è in una fase di stallo il mondo di dylan che è in una fase di stallo di cambiamento infatti le persone non sono né incise delineate e presenti ma sono ma non sono neanche dei fantasmi sono appunto in una via di mezzo all'improvviso suona il telefono a dylan dog e il telefono si sa che non l'ha mai avuto un telefono regalato gli da lord wells che però qui nel nella storia non si vede neanche che gli fornisce questo aggeggio diciamo quindi è un po una situazione astratta un po una situazione che si distacca dalle vicende che stanno che si stanno susseguendo sembra quasi una scena tratta da un universo parallelo di dylan dog che si distacca momentaneamente dalla storia e dylan dice come cavolo si fa a rispondere e riesce a rispondere perché ovviamente lui non ha mai usato un telefono buongiorno è la total time unlimited in company parlo con il signor dylan dog e dylan risponde con voce incerta sì sono io perché dylan come detto prima rappresenta noi lettori che siamo ancora incerti del personaggio di dylan dog e lui stenta a a capire chi è se stesso vuole modificare il suo profilo e passare al nostro gestore questa frase allude al fatto che dice a dylan se vuole cambiare e prendere parte a questo nuovo ciclo o vuole rimanere quello che è la nostra offerta di 20 milioni di minuti questa è una parodia del mondo moderno per 29 sterline mensili e dylan dice 20 milioni per cosa scusi non ci capisco un accidente qui siamo noi nella parte confusionale quando questo nuovo ciclo sta prendendo atto e non capiamo se vogliamo rimanere legati al vecchio dylan o capire e accettare il nuovo dylan dog per per cambiare il suo profilo signore guardi il mio profilo mi piace così com'è e qui un'altra un'altra diciamo certezza che in questo maxi dylan dog rimarrà tutto come sempre stato quindi dylan così com'è dopodiché risuono di nuovo il telefono suonerà per tre volte questa qui è la seconda buongiorno signor dylan la chiamo a nome della good intentions ld quindi la chiamo a nome delle buone intenzioni per sole santa sesterline a bimestre le offriamo 25 milioni di minuti no grazie non so chi vi ha dato il mio numero ma a voi di minuti non vogliono dedicarne neppure uno quindi richiamano la bonelli richiama nuovamente dylan dog con buone intenzioni per cercare ancora di persuaderlo non so come si dice non ammazzatemi per appunto cambiare un po il cervello per imporgli qualcosa ma dylan resiste come al solito perché dylan è testone non vuole far parte di questa nuova rinascita adesso basta torno dal west e gli restituisco il suo stupido regalo ma è davvero questo che mi ha regalato mi sembrava qualcosa di molto più piacevole originale che un banalissimo cellulare quindi pensava che gli aveva dato una nuova vita invece gli ha fornito un attrezzo che gli va a ricordare tutte le cose brutte che stanno accadendo quindi ancora una volta questa indecisione tra il vecchio stile nuovo stile di dylan dog e poi dylan una volta per tutte dice chiunque sia non sono interessato ma questa volta è la morte che dice è un peccato perché il suo tempo sta per scadere il suo tempo sta per scadere significa che qualsiasi scelta intraprenderà dylan dog stesso o il lettore ci sarà comunque questo questa nuova vita questo nuovo ciclo di vita come scritto qui quindi in un modo nell'altro questa evoluzione ci sarà e dobbiamo non dico rassegnarci ma dobbiamo prenderne atto qui troviamo dylan a letto con una ragazza cosa che gli capita sempre al contrario di me questa ragazza però lui non prova niente per lei semplicemente perché è un fantoccio questa volta vedete qui c'è il codice a bar è un'invenzione di lord wells dopodiché inizia dopo queste 26 pagine interminabili dopo dopo in cui viene riassunto tutto quello che è stato che sarà e che è adesso dylan dog arriva la storia vera e propria maledetto raffreddore non finirà mai e qui si ricongiunge ancora tutto al numero 1 il numero 1 perché arriva un'altra una ragazza che in persona saibill o sibill non so come si chiama la prima ragazza apparsa nel mondo di dylan dog quella del primo caso del numero 1 e dylan dice qui in alto quando si distacca dal dal quel prologo lì dice tra l'altro non vedo un cliente da settimane e la signorina dice 7 ci sono 15 fa capire che più o meno ogni 7 settimane dylan dog riceve un cliente finalmente anche questo dubbio è andato via su quanto lavori di nyan dog parlano del caso e si ricongiunge appunto sempre tutto al numero 1 perché la storia praticamente la stessa però trasportata in un mondo differente nel mondo presente con alcuni personaggi che fanno le veci di altri quindi personaggi che troveremo in questa storia fanno le veci del dei personaggi visti nel numero 1 come qui il marito che diventano zombie che cerca di far fuori la la donna qui vengono riprese le stesse identiche scene tranne quella in cui si chiude nel nel bagno perché la prospettiva qui è diversa e si rinchiude poi in uno sgabuzzino non in bagno qui troverà ancora un paio di forbici anzi un cacciavite rispetto alle forbici del numero 1 e ammazzerà il marito che poi era già morto perché erano zombie e quindi qua non c'è molto da dire perché andate direttamente a vedere la recensione del numero 1 perché la storia è la stessa tranne ad un certo punto perché ci sono altre metafore altre metafore che arrivano verso la fine della storia come vedete prendono ancora le biciclette dylan graucio gli altri per raggiungere non undead ma questa fabbrica che rappresenta undead qui ci sono dei flashback che dylan pensa che gli balzano alla mente andiamo dove vedo l'altra diciamo ecco qua invece che il la la parte malvagia del padre c'è questo signore che ha una ditta super mega gigantesca dove rende schiavi tutta la gente invece che farle diventare zombie li fa diventare zombie ma in maniera futuristica invece che iniettare il siero che iniettava la parte malvagia di dylan il numero 1 qui si inietta una specie di cosa biologica boh non ho capito bene qui dylan viene preso e qui c'è il discorso che ci porta ancora una volta verso il cambiamento che sta succedendo e allora io la farò accomodare la capec tech che sarebbe questa ditta non ha nulla da nascondere perché qui dylan dice lasciatemi andare perché scott langyard sta arrivando quindi lasciatemi andare perché i lettori arrabbiati stanno arrivando e lui dice è un blef non è vero dylan dice invece è tutto vero e il cattivo gli dice tra l'altro anche se i poliziotti si presentassero all'ingresso della fabbrica quindi anche se i lettori si presentassero in buonelli non potrebbero entrare senza un mandato quindi senza un senza avere ragion veduta e dylan dice il mio amico ispettore bloc che non è uno sproveduto verrà con il documento in regola garantito quindi i lettori hanno delle delle buone ragioni per dire cose brutte su dylan d'orge su quello che sta succedendo allora io li farò accomodare la capec tech non ha nulla da nascondere quindi la bonelli ci fa ci accompagna per dirci che non c'è niente di di strano stanno facendo questo rilancio e non c'è nulla da nascondere qui in ogni caso questo signore tenta di manipolare le menti di questi di graucio della della ragazza di dylan e di dylan stesso perché in un modo o nell'altro questo cambiamento avverrà e questo lo si nota soprattutto quando dice goodbye old boy quindi un addio al dylan d'orge di sempre sulla serie regolare mentre qui rimarrà come al solito il dylan che conosciamo da sempre qui vengono raggruppati in queste due bellissime pagine belle e ampie tutti i personaggi che hanno fatto storia nel mondo di dylan d'orge personaggi principali e alla fine arriva bloc ovvero arriva nel lettore arriva bloc che dice la pensione può aspettare questo appunto è un allude al fatto che qui non cambierà niente su questo maxi spara alla provetta distrugge questa provetta che contiene il nuovo mondo di dylan d'orge che non viene iniettato in questa storia a dylan quindi il nuovo dylan su questo maxi aspetterà e anche molto perché il nuovo dylan qui non ci sarà mai bene alla fine della storia si capisce che si collega quasi al numero 100 perché il numero 100 come sapete dylan finisce di costruire il galeone qui graucio gli regala una polena ad attaccare al galeone dylan dice l'attacco no quindi è quasi un anticipo del numero 100 che dopo non si svolgerà in questa storia quindi il numero 100 è una storia distaccata rispetto a questa anche se sembra per un momento che siano uno il prologo e l'altro l'epilogo in realtà la polena era di emlin il famosissimo essere diciamo che non so bene se sia un alieno non ho ancora capito che vende oggetti strani al safarà questa polena aveva in sé la dote di moltiplicare il presente il passato il futuro quindi di unire più universi paralleli e dylan ha vissuto non una di queste tante storie ma semplicemente un incubo una storia fantastica non so se avete capito qualcosa di quello che ho detto ma questo è quello che ho capito io se avete capito qualcos'altro fatemelo sapere per il momento è tutto un maxi dylan dog che inizia benissimo non ho nient'altro da dire ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo se il video ti è piaciuto iscriviti al canale così ogni volta che faccio una recensione ti arriva la notifica condividi questo video dove vuoi e ciao